Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video Oggi andremo a fare uno spacchettamento del mio bellissimo Poco Allora, andiamo a vedere cosa c'è da dentro Ma questo perché mi stanno facendo i video da quest'altra parte, ma viene uguale Allora, c'è l'anteprima di Campagna 3 Poi le offerte di Campagna 4 Perché ho fatto un casino, ho finito i prodotti di cataloghi di Campagna 4 invece che quelli di Campagna 3 Ma va bene così Poi il supplemento di Campagna 3 Ok, questa è la fattura Poi ci sono i cataloghi che vi dicevo di Campagna 4 Da dove ci sono le nuove tinte labbra 2 a 10 euro e 99 Se volete un video su questo, fatevi sapere Ne ho ordinati 4 Perché è stato un piccolissimo ordine questo qui Poi Mi sono arrivati questi qui Che sono i calzoni quelli neri nella taglia 48-50 Quelli jeggins Mi sta facendo il video Poi ci sono Il video del video Due bubble bath Uno è da 500 ml Uno è da lavanda e uno è cioccolato e arancia Questo qua Poi Sto cadendo anche dalla seggela L'ho presa per me la BBQ Sì, BBQ BBQ è una salsa La BB cream Nella tonità light Della Perfect Skin Questa qui della New Poi la lima per i piedi Questa qui della Foodworks Poi dopo C'è Un Bagno Schium Sì, Bagno Schium Balsamo Alla vaniglia e pera Questo qui da 250 ml Questo qui è quello per I tutti i tipi di capelli Mi sembra Sì, infatti Sì, per i capelli nutrienti Questo qua Poi il deodorante One Duty Poi il Lavon Senses Sensual Dream Cioccolato fondente E Cocco Questo qui da 250 ml Poi Mi è arrivata La crema Quella Tomorrow C'era la promozione Due creme A 5 euro Mi sembra E questo qui Il Far Away Poi mi è arrivato Il rossettino Della Mark Lips Nella tonalità Spillbound Che sarebbe Questo qua Questo qui Poi Faccio una Confusione assurda Poi Mi metto un po' qua Perché Se no Ti do il mio fastidio Questo qui Che è il Smalto Nella tonalità Fabulous Fabulous Come cavolo si dice Che è questo qui Mi piace È un rosato Salmone Ok Poi Mi sono arrivati Un bel po' Di rossettini Poi li ho presi In anteprima Devo essere sincera Ora vi faccio vedere Ok Mi è arrivato Questo qui Sempre della Mark Nella città Rockstar Ma è una tinta labbra Questa qui Ed è questa qua Molto bello Rosso Molto 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 Che è questo qui Infatti Questo violino qua Che è più lillato Anche ti sento Poi questa qui È una tinta labbra Che è Red Extreme Non è nemmeno una tinta labbra Ma è un rossetto Ero convinta Fosse una tinta labbra Perché c'è anche una tinta labbra Che si chiama Red Extreme Poi questo qui Sono quelli Di naturalità Perfect Matte Che sono Magnificent Mauve E Trusted Red Che sono questi due In realtà Questi qui Purtroppo Non li posso aprire Questi Rosso e viola Poi ci sono Questi altri due Che sono Whistle Wine E Wild Cherry Sempre Un Rosso e viola Più no Più un viola E un mattone Chiedino E poi Mary Magenta Che è questo qua Oddio Oviedo Dai Saluta Saluta Dai Basta Basta Sempre in mezzo Poi dopo Vieni E' arrivata La crema Quella yogurt Yogurt Frutti Bosco Questa qua Della Avon Naturals Poi il fondotinta Della Mark Nella tonalità Natural Eftect Io vi farò vedere La faccia Del mio ragazzo Adesso Che è Questa qua Se riuscite A vederla Adesso che L'ho presa un po' Più scurina Non è assolutamente Per me Ma è per la Minipote Poi Dopo 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 Ho preso Una matitina Della Color Trend Duo Effect A Cajal Nella tonalità Black Turquoise Che è Questo qua Nella tonalità Qui nera E qui E' Celeste Tu Perché Insomma Poi Mi sono arrivati Un bel po' Di campioncini Ora vi faccio Vedere Ahia La faccia Un po' Assurdo Allora Prendiamo Tutti I campioncini Ok Sono Un bel po' Di campioncini Di profumi Questi qui Vedete Ne ho presi Una Bella Manciata Poi Ho preso Questo è un altro Questo è un altro Questo è un altro Due o tre Tre o quattro Dei rassetti Quelli Mark E poi Due Del Campioncini Della Zvante Knick Uno Del fondotinta Un altro Del fondotinta Un altro Della Zvante Knick Anche questo Sempre Shampi Anche questo E un altro Fondotintina E niente Il video finisce qua È venuto un po' cortino Perché era piccolino anche il pacco Spero che vi sia piaciuto tutto E al prossimo Ciao Ciao Ciao